Primo pari del campionato per la Torres a Perugia, ma è stato uno scontro fra due ottime squadre. Franco Ferrando. La prima non vittoria del campionato della Torres all'ottavo turno è arrivata dopo una gara giocata alla pari contro una squadra che punta alla Serie B. L'1-1 un risultato giusto in una partita che ha cambiato padrone un paio di volte, come accade negli scontri tra formazioni dello stesso livello. I sasseresi ci hanno provato, sono passati in vantaggio quando gli avversari stavano crescendo. Il triplo cambio del mister di casa e la reazione emotiva dopo lo svantaggio ha portato al pari, complice una mancata chiusura difensiva. Inutile recriminare, la Torres poteva segnare ancora con Masala. La sua conclusione però è stata parzialmente intercettata dalla difesa, ma nel finale è stata graziata da Juan. Ci stava insomma, ripeto, noi venivamo qui a Perugia a pensare di fare una passeggiata. Quindi, ripeto, secondo me abbiamo fatto una prestazione importante giocandoci a viso aperto, uomo contro uomo, senza remore. Come facciamo? Questa mentalità insomma ci stanno dando delle soddisfazioni. Non va dimenticato inoltre che i sasseresi hanno rinunciato a Liviero e Giorico e ancora a Diachite. Quest'ultimo tornerà nel gruppo martedì. Per gli altri invece si è trattato di uno stop precauzionale per affaticamento.